Amici di Turesta, questo è un muro, è un muro, il muro che non è il muro del pianto ma è il muro che rappresenta la fatica dei ciclisti che si stanno avventurando in questa giornata incredibile che vede Bologna al centro del mondo Ed eccomi qua, partenza, sei pronto allora? Ma io sono pronto, io vado in bici e tu vai in... Vespa, naturalmente, yes La fatica è la... E la non fatica, è la comodità Ecco, siamo qui con un atleta Ciao, con il grande Paolo che andrà a vedere anche lui il Tour de France Ecco, probabilmente non si è adeguato alla velocità 30 che c'è a Bologna In Francia vanno più velocemente, lei cosa pensa? Penso che non hanno letto il regolamento del Comune di Bologna Da quant'è che siete qua? Da mezz'ora abbondante Da mezz'ora abbondante il cappellino giallo, tutto in giallo, fantastico Anche lei in giallo, tutti in giallo Una famiglia in giallo per il Tour de France Esatto Questa mattina per... hai anticipato Ho anticipato di un bel po' Guarda, guarda, guarda i uovi, non so che sia in testa, però va bene Va bene, l'importante è partecipare E questo qua, essere qua Aspetta Una bellissima bandiera del Belgio Quanto hanno di distacco i primi? 8, 9 minuti Ah, 9 minuti, quindi i primi arrivano Alla cima di Monte Calvo Questo ridente luogo Dove i signori, gli abitanti del luogo, sono qua Ah, Francia Ah, Francia Monte Calvo Desolé Desolé, grazie Ecco, stiamo arrivando Ovviamente tutto è preceduto dalle moto Allora, fanno un giro veramente ardigogolato Allora, fanno un giro Abbiamo il motivatore Lei è un motivatore, un coach Lei di che cos'è coach? Questa per me, questa per me Questa me la regala Ah, gliela regala addirittura Ma lei fa il coach Vedo che motiva Mental coach Mental coach incredibile Mental coach Port Hydro bike Hydro bike, fantastico E poi mountain bike elettrica Vali, vali 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 ecco amici di touresta è appena finito il tour de france a bologna in francese cosa diresti le tour si è terminato peccato perché è stato commovente bello 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 l'ho detto già in precedenza è stato qualcosa di veramente emozionante non pensavo perché ti vedi sfrecciare queste biciclette che saranno velocissime e poi ci siamo splittati divisi perché barbara ha curato la parte idice io la parte monte calvo io sono andata in bicicletta barbara più tranquilla in vespa e quindi dividiamo i compiti in questa puntata di tour esta amici di tour esta barbara in francese vi saluta dicendovi dai pur al tour dai pur al tour non è proprio bolognese non è proprio francese è un po bolognese francesizzato oui oui on y va on y va